Giochi senza frontiere, prima categoria di Alessandro Abansini. I popoli del quarto mondo raffigurati in basso, nell'inferno della fame e delle malattie, incatenati dal debito verso i paesi ricchi, umiliati anche dalla scarsità degli aiuti umanitari. L'egoismo politico ed economico della italianissima classe dirigente e del nostro mondo imprenditoriale sono rappresentati da Berlusconi e Agnelli. L'espressione del presidente Bush riflette molto bene la tendenza dei conservatori americani ad attuare una politica estera di scarsissima pluralità. Sullo sfondo le armi tecnologicamente avanzate fanno eco allo strapotere dei paesi ricchi sul resto dell'umanità. L'espressione del presidente Bush riflette molto bene la tendenza dei conservatori americani e l'espressione del presidente Bush riflette molto bene la tendenza dei conservatori americani Involentore della tendenza dei conservatori americani e un grande turismo hanno scritto la costruzione di conversazione dei conservatori americani e el Für. Anfressione delarez Bonio 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 Samsung Sorsi Bonio Bonio Bonio